Il nostro ruolo è stato quello di organizzare il monitoraggio su 80 siti, per cui andare a individuare e a monitorare quella che è esattamente la presenza della cimice asiatica nei vari appensamenti a livello di Regione Piemonte e poi ci siamo occupati proprio materialmente dei rilasci, per cui sono una settimana e dieci giorni che i nostri colleghi vanno in giro in macchina a effettuare zona per zona nei vari corridoi ecologici che sono stati precedentemente selezionati sempre dal gruppo di lavoro in funzione del percentuale di danno presente negli anni precedenti e della reale presenza della cimice monitorata con i monitoraggi 2020 per andare a fare dei rilasci mirati zona per zona in modo che l'efficienza del rilascio del parassitoide sia alta.